Tila, ti senti bene? Adam? Tila! Sei... verde? Ecco, vedi, ti posso spiegare? L'ho fatto per te! Beh, per tuo padre! Quindi saresti diventata verde per mio padre? No, io... Dovevo accedere alle antiche magie per riportare indietro Freternia! Ho pensato che ripristinandola al di là sarei riuscita a tranquillizzarti, perché Rerandor avrebbe ricevuto la sua grande ricompensa! Tila, ti ringrazio, ma... Non serve che tu faccia questo per me! Io ho solamente bisogno che tu resti qui, accanto a... Non serve che tu faccia questo per me! Ho pensato che tu faccia questo per me! Ho pensato? Errand ..